Caso naturale e Maleti ci ispirano e segnano il Gravina va a K.O. Nocele inferiore, dove la nocerina resta invece un rullo compressore. Quarto successo consecutivo per i Molossi al cospetto del proprio pubblico, mentre K.O. per i Murgiani dopo i due successi di fila che hanno riaperto i giochi in chiave salvezza. Zavettieri deve fare a meno di Romeo squalificato e Garofalo infortunato nel suo 3-4-3, con Basanisi in zona mediana assieme a Giacomarro, mentre in avanti esordio da titolare per Maletic assieme a Caso naturale e Mancino. Il classico 3-5-2 anche per Summa e Ragone, con questa volta Intinacelli al fianco di Prado in avanti, vista anche l'assenza di Actis Goretta. Lauria in cabina di regia. Partono meglio i padroni di casa che al primo vero affondo passano il minuto 19 ed è decisiva la discesa di Caso naturale, bravo a servire a destra Maletic, altrettanto freddo a mettere a sedere Ligorio prima di battere sul primo palo Mascol con un sinistro preciso. Ci mette poco il Gravina però a sfiorare il pareggio, calcio di punizione scodellato in aria da Bruno e 40 di testa la mette di poco sul fondo. Al 36esimo poi ecco il pari Murgiano, Coppola da sinistra, serve un perfetto assist con il destro per la testa di Parisi, bravo ad attendere il mancato intervento di Basanisi a piazzare il pallone dal lato opposto rispetto a Staccos. Il risultato non cambia più fino a fine del primo tempo, anche se il solito caso naturale nel finale prova il tocco vincente dopo aver superato Mascolo e Sansone, palla sul fondo. Maletic sul calcio di punizione dai 20 metri mette solo i brividi a Mascolo attento ad inizio ripresa. Molto più pericolosa invece l'azione imbastita a sinistra da Basanisi con il cross per Giacomarro che in sforbiciata si vede murare la conclusione prima dal tocco di Ligori e poi da quello decisivo di Sansone per Mascolo. Su di Palma tutto sull'inaria ma dopo 20 minuti di pressione di casa arriva il nuovo vantaggio, questa volta Maletic a liberarsi a sinistra per un cross con i giri giusti per la corrente caso naturale di testa. Bravo a beffare l'intervento di Ligori a siglare il gol del successo di casa. Il gravina sbande, la nocerina sfiora subito il tris con Chietti per Maletic e il tiro dell'attaccante bosniaco salvato in corner da Mascolo. Basanisi sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore ospite. Il forcing finale dei murgiani tuttavia non provoca particolari grattacapi alla difesa guidata da Staccos e anche l'ultimo calcio di punizione a tempo abbondantemente scaduto scodellato in aria da Tommasone con Mascolo in proiezione offensiva viene ben intercettato dalla difesa di casa. Finisce così al San Francesco, la nocerina vince per 2-1 e aggiunge un tassello importante alla salvezza per il gravina invece inizio 2023 non positivo e domenica al vicino sarà tempo di match contro il Casarano.